Buongiorno da FT Online, avvio incerto questa mattina per i principali mercati azionali europei, in questo momento il nostro Futsimib guadagna lo 0,04%, pochi secondi fa era leggermente negativo, siamo sui 22.970 punti, evidentemente l'attesa per il referendum di domenica in Grecia sta condizionando pesantemente i mercati e nessuno si vuole prendere la responsabilità di intraprendere una direzione precisa, per quello che riguarda l'indice comunque al di sotto dei 22.800 punti avremo un segnale negativo, mentre al di sopra dei 23.100-150 ci sarebbe uno spazio di crescita di almeno altri 250 punti. Restano comunque alcune storie interessanti da raccontare, come ad esempio quella di Enel, Equitasim ha confermato il rating buy sul titolo con un prezzo obiettivo a 4,60 Euro, un titolo che da inizio anno è cresciuto dell'11,5% circa e nell'ultimo mese invece in termini relativi sul future share ha lasciato sul terreno l'1,28%, quindi c'è un titolo che non si muove in maniera particolarmente aggressiva, che forse può essere una scelta adatta per l'investitore in una fase di incertezza come quella attuale. È possibile individuare una forte area di supporto poco al di sotto dei livelli attuali, diciamo in area 4,02-4,03 Euro, fino a che ci mantenremo a di sopra di questi livelli, le attese favoriranno il raggiungimento della parte alta della fascia di oscillazione che il titolo ha disegnato nel corso dell'ultimo trimestre, quindi verso i 4,50 Euro. Una strategia plausibile potrebbe essere quindi quella di entrare in acquisto sui livelli attuali per puntare al raggiungimento della parte alta della fascia di oscillazione, con uno stop subito al di sotto dei minimi che sono stati toccati a maggio a 4,01 Euro. Notiamo che i minimi di maggio e i minimi di giugno si collocano praticamente sul 38,2% di ritracciamento del rialzo dei minimi di gennaio, un elemento in più in favore del fatto che il movimento di ribasso visto nelle ultime settimane potrebbe essere catalogato come correttivo e quindi una flessione temporanea e che dai prezzi attuali il titolo potrebbe tentare un'ulteriore fase rialzista. Notiamo anche che 4,50 Euro, l'area che abbiamo dato come target, coincide con i massimi dello scorso anno, toccati il 20 giugno, quindi una resistenza decisamente importante all'approcciarsi di quei livelli, quindi probabilmente si può valutare la chiusura o l'alleggerimento del posizionario rialzo in attesa di una decisa rottura che conferma il segnale. Oltre 4,50 Euro invece si aprirebbero spazi di rialzo verso 5 Euro, infatti l'ampiezza della fase laterale che i prezzi hanno disegnato nel corso degli ultimi mesi diventerebbe il metro con il quale fare misurare il potenziale di rialzo che c'è in caso di rottura della resistenza, quindi proiettando l'ampiezza del rettangolo verso l'alto si ottiene un target sui 4,95 Euro. Interessante anche Unicredit, in questa fase siamo a rialzo del 0,4% circa 6,25 Euro, Banca Acreos ha confermato il giudizio neutrale per Unicredit con un prezzo obiettivo a 6,60 Euro, quindi un target che si colloca sui massimi dell'anno. Anche in questo caso come per Enel abbiamo un titolo che nel corso degli ultimi mesi ha disegnato una fase sostanzialmente laterale, ci troviamo nella metà bassa di questa fascia, quindi anche in questo caso le strategie che si possono ipotizzare sono di acquisto con uno stop subito al di sotto della base del trading range, quindi con uno stop subito al di sotto di 5,88 Euro ed un target inizialmente a 6,60 Euro. Notiamo ancora una volta che la fase di ribasso che c'è stata dai massimi di giugno ha ritracciato una porzione tutto sommato ridotta del precedente rialzo, quindi i movimenti negativi delle ultime settimane possono essere tranquillamente considerati per adesso come una semplice fase correttiva. In caso di superamento di area 6,60 Euro sarebbe possibile immaginare il proseguimento del rialzo all'interno del canale che si può disegnare a partire dai minimi di gennaio e quindi il target al di sopra dei 6,60 Euro si andrebbe a posizionare intorno a 7,10 Euro. La discesa invece al di sotto dei 5,90 Euro farebbe temere un proseguimento della fase negativa con obiettivi o a 5,70 o a 5,50. Dunque per il momento si possono valutare strategie a rialzo già fin dai livelli attuali. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento per domani a stessa ora con il consueto commento giornaliero. Grazie.